Continua il processo di informatizzazione e di innovazione tecnologica su tutto il territorio comunale di Scaletta Zanclea, un sito internet totalmente rinnovato, un protocollo informatico per la gestione dei documenti nei vari settori della pubblica amministrazione, una rete wifi disponibile nelle principali piazze cittadine ed un controllo H24 delle condizioni medio con l'impiego di moderne tecnologie. E' stata installata infatti una meteocam al castello Rufo Rufo che oltre a mostrare uno scorcio incantevole di riviera ionica è anche un dispositivo che permette di controllare l'evolversi delle condizioni meteorologiche soprattutto dopo il tragico evento alluvionale del 1 ottobre 2009. Diciamo che queste sono delle procedure suggeriteci dalla protezione civile, quindi abbiamo installato prima una meteocam che guarda verso capo lì e quindi seguiamo l'evolversi della situazione meteo. Inoltre sono state ripristinate le stazioni meteorologiche che si trovano all'interno del comune e che è possibile anche quelle visualizzarle online sul sito internet del comune. Inoltre abbiamo acquistato anche un telefono satellitare che ci permette di effettuare le chiamate anche in assenza di campo. Verrà installata prossimamente e poi visualizzabile anche sul sito una meteocam che guarda verso Messina, quindi abbiamo una panoramica generale della situazione meteo. Inoltre abbiamo potenziato il sistema di alert per le chiamate in caso di meteo, condizioni meteo avverse, quindi anche grazie all'interazione con i social network riusciamo a raggiungere il 90% della popolazione in caso di allerta meteo. Quindi è un risultato che ci consente in qualche maniera di gestire le emergenze. Un processo di informatizzazione a 360 gradi che investe anche in rapporto con la cittadinanza e attiva oltre ad una mail istituzionale e ad un profilo Facebook anche una chat online attraverso la quale è possibile comunicare direttamente con gli uffici comunali. L'informatizzazione è partita con l'installazione del protocollo informatico. Al comune ormai già da un anno c'è pochissimo utilizzo di carta perché tutto viaggia su una piattaforma web, quindi documenti che vengono protocollati vengono smistati agli uffici tramite un software. Da lì abbiamo cercato di sviluppare sul sito di internet del comune una sorta di chat che è possibile, che serve al cittadino per collegarsi in maniera diretta con gli uffici. Adesso è in fase sperimentale e risponde l'ufficio tributi. Diciamo che c'è anche la situazione della Tari e quindi è possibile parlare direttamente con gli uffici, sulla home page c'è il collegamento, sulla home page del sito di internet del comune. Inoltre è possibile anche inviare una mail direttamente al sindaco compilando un form e quindi anche smistare le lamentele da parte dei cittadini. È attivo un protocollo informatico? È possibile quindi inviare documenti ai vari uffici del comune senza muoversi fisicamente? Allora arriva un documento, sempre arriva questo certificato medico di un indipendente, lo consegna qua, noi giustamente lo togliamo, scriviamo i dati che non è, poi lo mettiamo nello scanner, lo legge e lo diamo ai destinatari. E già loro lavorano nel suo computer, nella stanza che deve... E ci possono lavorare direttamente. E il cartaceo rimane qua agli archivi, rimane agli atti.